Deve ripartire con nuovi accertamenti affidati ai carabinieri l'inchiesta sulle escort recruttate da Giampaolo Tarantini per i parti nelle residenze di Silvio Berlusconi. Il titolare del fascicolo, il procuratore aggiunto del Tribunale di Bari, Pasquale Drago, ha chiesto ai militari nuovi accertamenti, in particolare riguardo all'ex premier e al faccendiere ed ex direttore dell'Avanti, Walter Lavitola. Si allontana dunque l'eventuale richiesta di processo per i due, accusati di aver indotto l'imprenditore barese Giampaolo Tarantini a mentire ai PM che indagavano sul caso escort. Le nuove indagini saranno concentrate su tre telefonate fatte dalla Vitola alla villa di Berlusconi ad Arcore, il 17 luglio del 2011, telefonate di cui, stranamente, non c'è alcuna trascrizione. Nell'ultima chiamata, in particolare, Lavitola avrebbe parlato con l'ex premier del prestito di mezzo milione di euro da versare a Tarantini per aiutarlo a risollevarsi dalle sue difficoltà economiche, denaro che, dunque, non sarebbe servito per pagare le sue presunte menzogne sulle escort.